Ciao ragazzi, bentornati nel canale YouTube, io sono Tommaso Codolo e questo è DaVinci Resolve 15. Non mi soffermerò più di tanto sul discorso che siamo passati da DaVinci Resolve 14 a DaVinci Resolve 15, ma seguirò i tutorial che mi sono preposto di fare. In questo caso oggi parleremo di inserimento titoli all'interno del nostro progetto in timeline. Quindi bando alle ciance, vado a prendere subito il primo dei miei file, lo vado a portare all'interno della mia media pool, è un file da 29,97 frame al secondo, quindi da 30 fps, vado a dargli il mio change come al solito e mi sposto immediatamente nella tab edit, che come vedete rimane uguale alla tab edit di DaVinci Resolve 14, non cambia molto, abbiamo degli altri tab in più, ma diciamo se avete già un po' di manualità con il 14, non spaventatevi e andate subito a scaricarvi il 15 perché troverete un sacco di cose interessanti, nuove e divertenti e soprattutto utilissime. Prendiamo a mano il nostro file, lo mettiamo subito all'interno della nostra timeline, di modo che si abbia qui il nostro file video e per inserire un titolo, sempre nel reparto edit ovviamente, andremo all'interno della effects library, qui in alto, e vedete che qui all'interno dei toolbox, che se fossero chiusi basta aprirli cliccando sulla nostra freccina, abbiamo video transition, audio transition e titles. Qui proprio avremo la possibilità di inserire i vari titoli che ci interessano, facciamo il classico esempio di un titolo normalissimo, quindi un testo semplice, lo si prende, lo si sposta, ci fa proprio un drag and drop all'interno della nostra timeline e viene visualizzato come un input video, vedete. All'interno della casella text possiamo, grazie al nostro inspector, che è acceso qui, se non fosse acceso basterà andare a cliccare qui sul tab inspector e potremo andare a inserire la nostra scritta. La nostra scritta che potrà innanzitutto essere gestita con differenti font, come potete vedere. Andiamo a prendere un font qualsiasi. Avremo la possibilità di gestirlo sia in grassetto piuttosto che in corsivo in italico. Abbiamo la possibilità di gestire le colorazioni tramite questa color chart, gli daremo l'ok. Avremo la possibilità di gestire la dimensione della scritta ed eventualmente anche tramite la rotellina qui a destra. Avremo la possibilità di gestire la larghezza, stringo un po', rimpicciolisco un po', la larghezza degli spazi tra una parola e l'altra. Avremo inoltre la possibilità, se scrivessimo in due righe, di andare a gestire anche lo spazio tra le due righe. Font style, font case, alignment, il fatto di poterlo ancorare, il fatto addirittura di poter utilizzare dei keyframe per andare a ridimensionare la nostra scritta o per andare a spostarla. Ad esempio, se noi andiamo qui all'inizio del file e gli diamo un keyframe, gli diamo una dimensione intanto un po' più piccola, e gli diamo un keyframe qui, e ci spostiamo qui, gli diamo un secondo keyframe con una dimensione maggiore, avremo la possibilità di, appunto, sfruttare questo zoom anche della scritta, vedete? Ecco qua. Tutto quello che è puntato qui a fianco sono keyframe, quindi abbiamo la possibilità di gestirlo in qualsiasi maniera. Ad esempio, se io volessi, che ne so, farlo ruotare, per esempio, e farlo partire da questa posizione qui, per portarlo a questa posizione qui, fixo un altro keyframe, lo metto qui, e io avrò la mia immagine che diventa più grande, la mia scritta che diventa più grande, e che ruota all'interno dello schermo. All'interno del nostro inspector abbiamo anche le ombre, l'ombra la facciamo nera, e andiamo a creare quest'ombra. Ok. Fatta così. Anche qui, vedete, avete la possibilità di utilizzare dei keyframe in questo caso, e qui invece abbiamo, con lo stroke, la possibilità di evidenziare i profili della nostra scritta. Volendo avremo anche la possibilità di gestire la stessa scritta anche dalla nuova tab Fusion, grazie alla gestione dei vari nodi che ci sono all'interno. Semplicemente prendendo il nostro testo e portandolo all'interno della nostra linea, diciamo, tra i due nodi. È un po' più complicato, viene gestito in maniera un po' differente, ma il funzionamento è praticamente lo stesso, nel senso che io posso scrivere eccomi qui, e gestirlo direttamente dalla tab Fusion, un po' meno intuitivo dal mio punto di vista, se non dobbiamo andare magari a fare dei lavori di rendering 3D e di spostamento e di tracking poi del video e dell'immagine stessa. Bene, avete visto come è semplice con DaVinci Resolve andare ad inserire scritte all'interno dei propri video, tra l'altro anche scritte in movimento che non fanno mai male. Spero che vi sia piaciuto anche questo tutorial velocissimo, spero di vedervi nel prossimo video, ricordatevi di seguirmi su tutti i miei canali, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, eccetera. Non mi resta che augurarvi buon editing, salutarvi e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!